Eccoci qua, buonasera, iniziamo a rompere le scatole anche questa sera, gli argomenti di cui parleremo, il lavoro con le tante cerimonie del primo maggio che non portano a niente, un poco come il giorno dei morti, tutti andiamo al cimitero, ma il vero cimitero è la situazione del lavoro nel nostro paese, ne parleremo con i nostri ospiti, poi il tema dell'immigrazione con il governo che dorme e anche Salvini che dorme, al cara di Mineo, ci fa vedere come si vive là dentro e poi il blitz che non porta a niente sulla sicurezza in stazione centrale a Milano. E nell'ultima parte di trasmissione la consueta rubrica Feltri preso a parole, tutto questo dopo la sigla. E allora partiamo dal lavoro, anche se Nelle chiacchiere che ho sentito fare i nostri ospiti fremono per parlare di immigrazione, di questo mega blitz alla stazione centrale di Milano, ma c'è tempo. Allora salutiamo gli ospiti, Giovanni Malanchini della Lega Nord, buonasera, ben arrivato. Dovendo parlare di lavoro, le chiedo, lei ha mai lavorato nella vita? Sì ho lavorato, nasco come... ma ho lavorato duramente, ho sempre fatto l'imprenditore e continuo a fare l'imprenditore, quindi anche in un'azienda di famiglia mi sono dato da fare... Ho caricato e scaricato anche camion con muletti nella mia vita, quindi ho viaggiato parecchio per lavoro. Aspetta che voglio vedere cosa risponde il prossimo ospite alla stessa domanda, Alessio Alberti del Partito Democratico, lei ha mai lavorato? Buonasera a tutti. Ho lavorato, anzi ci sono stati dei periodi proprio di studio di lavoro quindi assolutamente, anche lontano da Milano. Che lavoro ha fatto? Ma per esempio sono stato un anno a Roma, ero all'Agenzia Spaziale Italiana, ho fatto un bel tirocino lì che mi è rimasto per parlare lontano. Ma che lavoro hai all'Agenzia Spaziale? Si guardano le stelle? Non lo so. No, no, si fanno, nel senso fa parte della pubblica amministrazione italiana quindi con tutti... Quindi non faceva un cazzo? No, perché? No, allora che faceva? Lo spieghi? Ma no, ero lì nel senso si lavorava sull'indagini di public opinions e altre cose. Ma spieghi che si capisca, insomma lei non ha mai fatto un cazzo. Era l'unità rapporti nazionali e internazionali dell'Agenzia Spaziale Italiana. Eh ma che lavoro faceva che non lo capisca? Stava in ufficio nel senso con altri colleghi. Ah, stava lì col computer? Sì, in ufficio con altri colleghi. E che faceva? Quelle cose che si fanno in ufficio con altri colleghi in quel reparto specifico dell'Agenzia. Si può fare anche l'amore con altri colleghi in ufficio? Assolutamente no, assolutamente no. Che faceva? Lavoravamo? Ripeto, per esempio, analisi dei trattati fatti dall'Agenzia Spaziale. Indagini di public opinions e altre cose. Ma public opinions non lo capiscono a casa. Significa per esempio capire quali sono gli umori dell'opinione pubblica rispetto a un tema come quello appunto dell'Aero Spaziale. E quindi se la signora Maria pensava che Marta era... In Italia ha grandi investimenti nel settore aerospaziale. È uno dei settori di punta sui quali si investe per avere anche delle ricadute tecnologiche poi su altri... Preferivo quello dei muletti, scusa, lo capivo di più. Però vabbè, dai, diciamo che ha lavorato. Saluto Antonella Barranca di Rifondazione Comunista. Lavora, ha lavorato... Lavora, ho lavorato, ho fatto i lavori più disparati. Me ne dica uno più disparato. Beh, uno proprio molto disparato è stata la raccoglietrice di mirtilli in una piantagione svizzera. Raccoglieva mirtilli? Raccoglieva i mirtilli quando ero giovane. Quello che fa attualmente invece... Adesso la faccio... Lavoro per una società di rassegna stampa e per un centro sportivo. Ah, ok. Fa ginnastica. Faccio la segretaria, no. Ah, fa la segretaria. Non c'è il fisico per fare il ginnastica. Diciamo che conoscete... Due lo conoscono e uno, insomma, più... Ci ha fatto una rapida... Con lavoro, insomma. Allora, sto primo maggio. Intanto i dati sulla disoccupazione, li vediamo dal sito del Fatto Quotidiano. A marzo disoccupazione giovanile giù al 34,1. Il minimo dal 2012. Quella generale risale all'11,7. Insomma, sulla questione lavoro si continuano a far parole, ma è sempre emergenza. Sto primo maggio sembrava come andare al cimitero il giorno dei morti, le solite cerimonie retoriche. Buonanotte. I dati sono questi. Chi parte? Malanchini. Parto io. Accendi il muletto, Malanchini. Primo maggio, il giorno dei lavoratori. Il 2 maggio, il giorno dei disoccupati già. E per altri 363 giorni all'anno sarà ancora il giorno dei disoccupati, nonostante le balle che ci hanno raccontato. Perché mi ricordo di essere venuto qui in più circostanze, 5-6 mesi fa. Beh, ma non occorre venire qui per sentire le balle. Si sentono dappertutto le balle, si sentono dappertutto le balle. Che mettevano sulla famosa lavagna i segni più riguardo l'occupazione, riguardo le nuove assunzioni, quelle fantomatiche manovre che il governo Renzi e prima di lui qualcun altro ha messo in campo, che non hanno prodotto niente. Se non disagio, se non ulteriore disoccupazione, soprattutto, io parlo di quella giovanile, ma mi fa molto piacere, più che piacere, dispiacere come sindaco parlare di quell'occupazione di quei 567 mila, over 50 che non hanno lavoro e che devono mantenere una famiglia. E non è solo un numero, ce ne sono 60 mila in più rispetto all'ultimo semestre. Quindi più di mezzo milione di persone che hanno 50 anni, che difficilmente riusciranno a riqualificarsi nel mondo del lavoro e che oggi sono a casa. Se poi ci aggiungiamo la Fornero e tutto quello che è stato fatto, le conclusioni sono subito tratte rispetto a quella che è stata un'azione fallimentare, totalmente fallimentare, forse la peggiore azione di governo degli ultimi della storia. Però voi cosa proponete? Che alternativa proponete a questa situazione? Prima di tutto bisogna tagliare i costi improduttivi. Quella soluzione l'abbiamo messa sul campo, la portiamo avanti, con l'autonomia del Veneto e della Lombardia, con azioni forti, per andare a tagliare i costi delle regioni che fanno solo buchi e deficit e per investire sotto forma di detassazione questi soldi per le imprese produttive, le piccole e medie imprese. Di quel 10% di imprenditori che detiene tutto il patrimonio italiano e che ha sostenuto le cene in campagna elettorale di Renzi, a me ne frega poco o niente, quelli si possono anche tartassare. Alessio? Ma adesso che con l'autonomia o l'indipendenza della Padania si guadagnino migliaia, se non milioni, non so quanti di posti di lavoro, a me pare alquanto surreale e anche... Con 54 miliardi di euro si può fare tanto. No, però, scusami Giovanni, anch'io voterò sì a quel referendum per l'autonomia della Lombardia, se ci sarà, vabbè, se ci sarà... Perché Maroni deve cavalcare la prossima campagna elettorale per le regionali ancora su questo tema, sull'autonomia della Padania, o meglio sull'autonomia della Lombardia e sulla questione del dimezzamento dei ticket, visto che sono due cose che aveva promesso già nella campagna elettorale del 2013 e poi nessuna delle due si è verificata, puntualmente. Per colpa dei tagli del governo. Questa è l'arroganza, sempre colpa di Roma, sempre colpa dello Stato. L'arroganza degli esponenti, l'arroganza degli esponenti del PD si esplica in queste posizioni dove si spera che un referendum non si faccia perché non volete fare esprimere la gente su un quesito sacrosata. Assolutamente, fatelo questo referendum, fatelo e sprecate 30-35 milioni di euro per fare un referendum. Tra l'altro un referendum che non ha nessuna conseguenza sul piano legale, per cui un referendum che viene fatto, un referendum consultivo che poi qualsiasi sarà l'esito del referendum, lo diciamo ai telespettatori a casa, qualsiasi sarà l'esito del referendum, quel referendum non varrà nulla, sarà carta straccia. A voi interessa quello che dice Confindustria, a voi interessa quello che dice il Presidente del Monte dei Paschi di Sera. Di quello che dice la gente non vi interessa niente. Malanchini, ma lascialo stare che dall'Agenzia Spaziale ti osserva. Sto dicendo però, ha ragione lui quando però ti dice, se si farà io voterò sì a quel referendum, però ha ragione lui che ti dice che non è che risolvi i problemi votandosi al referendum per l'autonomia? Risolvi i problemi portando avanti un'azione politica che costringa il governo, qualsiasi governo, a rivedere quella che è la spesa pubblica italiana. Ciò significa andare a tagliare i costi improduttivi. I soldi non piovono dal cielo. Questo che forse non si è mai capito a sinistra, ma non si capisce ancora anche adesso. Che i soldi non piovono dal cielo. Io ho fatto l'imprenditore e i soldi, quando lo facevo io, non piovevano dal cielo, non piovono dal cielo neanche oggi. E da sindaco, lo dico, ha ragione. Forse la differenza tra qualcuno che può esprimere concetti così generici e chi fa il sindaco è quello di toccare ogni giorno la dura faccia della realtà, vedere ogni giorno la dura faccia della realtà, vedere persone disperate che vengono nel tuo ufficio a piangere perché poi non riescono ad andare avanti. Sono imprenditori, sono operai e sono diverse categorie di persone. Però il concetto è questo. Detto da un sindaco di un comune del nord Italia che si è visto tagliare in otto anni di mandato un milione di euro su tre milioni di bilancio, penso che questo abbia senso. Alessio. Sì, ripeto, pensare che con l'autonomia della Lombardia, con l'autonomia della Badania, si guadagnino migliaia di posti di lavoro, a me sembra una visione assolutamente sbagliata e anzi, nel senso, mi sembra che stiamo prendendo in giro i telespettatori a dire una cosa del genere. Però non senti la responsabilità come esponente di un partito di governo, di quella gente che va a piangere da... Il partito democratico... Ma non ho finito la domanda. Prego. Di quella gente che va a piangere nell'ufficio dei sindaci, di questi cinquantenni che non hanno opportunità, dei pensionati che non arrivano a fine mese, dei giovani che ormai un lavoro non lo cercano più perché sanno che non lo troveranno. Non senti una responsabilità? Certo che sento la responsabilità come tutta la politica dovrebbe sentire una responsabilità. A iniziare a livello nazionale, naturalmente, è lì che si dovrebbero fare quelle politiche per favorire una crescita dei posti di lavoro. Il partito democratico è vero che è stato al governo negli ultimi anni, il partito democratico ha tentato, ha tentato, ha tentato di fare delle cose buone sul tema. A parer mio, il Jobs Act, stanti i suoi enormi limiti, enormi limiti, enormi limiti, ha cercato, ha cercato di creare dei posti di lavoro, sono stati creati 680. Ascolti la signorina, la sua destra. Devo dire che purtroppo da giovane, da giovane, da giovane, devo dire da giovane, che i posti di lavoro per la fascia 18-25 anni sono stati ben pochi quelli creati. Quelli creati sono pochi, 50 anni, sono in mezzo alla strada, il vostro ministro dice che bisogna giocare a calcetto. In verità dei posti, dei posti che si sono andati a creare, appunto, hanno, poco di più, però hanno investito di più, appunto, fasce over 40, over 50. Capisco che dalla NASA, magari uno ha una visione un po', ma vai a vedere come lavorano nei call center, vai a chiedere a quelli di Foodora, come pedalano sotto la pioggia per 2 euro. Questi sono i risultati del Jobs Act. Sullo sfruttamento dei lavoratori, siamo perfettamente d'accordo, ma che lo sfruttamento dei lavoratori sia stato favorito, per quella vergogna, che avevate legalizzato il lavoro nero, ma per favore, sfruttamento dei lavoratori sia stato creato dal Jobs Act, anche questo mi sembra una lettura assolutamente sbagliata e scorretta. Considerando poi che i dati dimostrano, per quanto riguarda poi i voucher, ti dico come la penso io, per quanto riguarda i voucher, però parlate uno alla volta, toccava Barranca, che ti stava... I dati dimostrano il fallimento totale delle politiche del lavoro, oltre che quelle del Jobs Act, anche quelle precedenti, perché abbiamo una legge che non fa andare in pensione le persone per cui le trattiene fino a una certa età, poi le aziende chiudono e i cinquantenni sono a spasso. Primo risultato, cosa fanno i cinquantenni? Quando le aziende chiudono non vengono ricollocati. Chi li prende? Secondo i giovani, sfruttati, precari, voucher, partite IVA, finti lavoratori autonomi. Cioè, io non vedo assolutamente nulla di serio, per quanto riguarda le politiche del lavoro, e lo dimostrano i dati. La disoccupazione giovanile è scesa, perché? Perché semplicemente qualcuno ha ripreso a cercare lavoro. Questo è il dato, non perché sia scesa la disoccupazione giovanile. Ci sono stati, il punto delle assunzioni, perché ci sono gli incentivi, le decontribuzioni. È un metodo per cercare di creare, di creare, di incentivare nuovi posti di lavoro. Di nuovo si precipita nel calderone della disoccupazione. Gli ammortizzatori sociali sono insufficienti, perché non essendoci più la mobilità, come c'era prima del Jobs Act, che perlomeno garantiva due o tre anni alle persone, oltre una certa età, un cuscinetto perlomeno, per tirare un po' il fiato, a livello di potersi mantenere, con la Naspi, facci diata pure quella. Ecco, però, scusa, Barranca... Cosa ne pensi? Ma ti stai conducendo tu? No, allora, scusa, Barranca, voi fotografate molto bene la realtà, però le soluzioni vostre, quali sono? Perché sapete solo far fotografie. No, non è vero, noi non è che sappiamo solo far fotografie. Noi abbiamo comunque delle proposte, cioè la diminuzione dell'orario di lavoro, che non significa solo l'orario di lavoro quotidiano, ma anche il fatto... Cioè, volete farci lavorare meno? Sì, perché non si può più pensare che ci sia la possibilità di fare, tra l'altro poi, una cosa contraddittoria, chi sta al lavoro adesso? Abbiamo una pletola di disoccupati allucinante. Chi sta nelle aziende adesso, però, viene strasfruttato, quindi comunque c'è uno sfruttamento ancora più intensivo di chi comunque è occupato oggi. Quindi, l'orario di lavoro non è possibile, noi siamo stati quelli della proposta delle 35 ore e la rivendichiamo e anche a livello, a lungo periodo, il fatto di mantenere le persone al lavoro oltre una certa soglia d'età non è più sostenibile, perché altrimenti ci troviamo nelle aziende, persone che stanno a lavorare fino a 70 anni, praticamente, che non possono più farlo e i giovani che non riescono a entrare nel mondo del lavoro. Non mi sembra una ricetta tanto complicata. E lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Il PD li ha accontentati parzialmente, ti ha accontentata parzialmente quando ha cacciato a casa i cinquantenni con la Fornero, però non gli ha dato la pensione. Quindi, non ha tenuto la gente sul lavoro. La Fornero è stata una sciagura. La Fornero è stata una vera e propria sciagura. Questa è la ricetta del governo del PD. Ha prodotto gli esodati, ha prodotto un disastro. Quando mi incontro con esponenti di rifondazione comunista sul tema del lavoro, ma anche a fare un dibattito polemico, perché sono d'accordo. Sono d'accordo, non posso trovare niente di negativo in quello che è stato appena detto e poi posso solo condividere quello che è stato detto. Chiaro che oggi, all'interno, il dibattito si sposta non nel mio partito, non a casa mia, ma all'interno della sinistra. Saluto, lì c'è Ronzulli di Forza Italia. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi. Ecco, siccome ho chiesto a tutti che lavoro hanno fatto nella vita, me lo dica anche lei che lavoro ha fatto nella vita. Io ne ho fatti tantissimi. Quello, mi sembra l'infermiera. Ho iniziato a fare l'infermiera per pagarmi gli studi, dopo ho fatto la caposala, poi ho fatto la responsabile dell'area critica dell'ospedale, poi ho fatto il controllo dell'ufficio personale, il controllo di gestione del direttore sanitario, l'euro parlamentare. Ecco, quindi ne capisce. La vicepresidente Fiera, insomma diciamo che i gradini li ho fatti tutti. E la situazione è drammatica, c'è stato questo primo maggio in cui si è parlato e basta, no? Sì, abbiamo visto tante chiacchiere, abbiamo visto anche scene pietose di persone che manifestando hanno attaccato le forze dell'ordine. Ogni primo maggio, eh no, è inutile che fa quel... Perché Barranca ha fatto questa cosa? È grave sta roba? Dai, hanno investito dei manichini di polizia. Lei penso si riferisse a Torino, alle cariche che ci sono state al corteo. Ma mi riferisco, guardi, tutti i primo maggio, non c'è un primo maggio dove non va a finire in questo modo, no? Dove evidentemente la sua parte politica insieme a quella dei centri sociali si buttano in strada tanto per fare un po' di... Sì, sì, se stavano a casa le mazzate non le prendevano, guardi, posso dire, viene andate anche poche. Ma guardi, posso dire, io se ho una figlia che va in strada a picchiare le forze dell'ordine, quando viene a casa prende le botte più che le hanno date. Sì, guardi, le forze dell'ordine. Le hanno pre... Mi sembra che le prendano più che le diano. Sì, ma se stanno a casa le botte non se le prendono. Se vanno lì a provocare, a insultare, a buttare lacrimogli, a spaccare negozi, a spaccare macchine, va bene a caricare. L'Italia è devastata. Ancidemocratica, ma guardi, se dovesse capitare a mia figlia quando poi viene a casa le prende anche da me. Non so, ognuno ha i modelli culturali. È evidentemente, sì. Perché risponde così schifata schifata delle osservazioni di buon senso. Perché si vanno sempre a prendere questi episodi. Cioè, è sempre sempre il treno. Ogni primo maggio. Cioè, il primo maggio è diventata la festa dei centri sociali, non è più la festa del lavoro. È assolutamente vero. Per quanto mi riguarda potrebbe essere abolita questa festa. Lì c'è stato un episodio. Beh, ma non sappiamo che per voi le feste per i diritti dei lavoratori possono anche essere aboliti. Eh, certo. Che senso ha il primo maggio? A fare la manifestazione è modo di contestare quello? su tutte le manifestazioni che ci sono state in Italia In Italia si va a citare l'episodio di Torino. Va bene, vogliamo strumentalizzare. Strumentalizziamo. La pochezza degli argomenti è quella. Il primo maggio non serve a niente. La festa dei lavoratori è inutile. Buttiamo tutto via. Va bene. Ne riparliamo subito dopo la pubblicità. Poi torniamo a parlare di lavoro. Però Barranca, è grave il messaggio che passa da questo episodio, neanche tanto piccolo, perché bisogna essere organizzati a questa cannabis, già essere organizzati per prendere dei manichini, dei poliziotti. Cioè, voglio dire, se mettevano il manichino di un migrante, sarebbe venuto giù il mondo, capito? No, io mi riferivo alle cariche che ci sono stati a Torino contro il corteo che ha tentato di arrivare in piazza. No, ma questa roba qua ti sembra normale? Ah, ok. Quindi lo condanniamo questo episodio. Beh, insomma, non è un bel messaggio. Insomma, sì o no? Non è un bel messaggio, sicuramente... Quindi lo condanniamo? Sì, condanno il fatto di aver investito dei manichini con delle persone. Perché li voleva investiti veri, no? Ecco, il messaggio si condanna, no? Malanchini. No, volevo chiarire, perché, cioè, se no non posso continuare con tutto rispetto il dialogo con chi... No, io pensavo lei si riferisse all'episodio di cariche in piazza contro... No, Ronzulli si riferiva a questo episodio che ha fatto il giro del mondo che ha un significato ben preciso, cioè, di una certa parte politica che i poliziotti li vorrebbe così, no? Beh, non è assolutamente detto che una certa parte politica vede i poliziotti così. Assolutamente. È anche vero che siamo in un paese dove spesso le forze di polizia si sono anche rese protagoniste di episodi molto poco edificanti. Ma per favore... Si parla di casi come Cucchi, Aldrovrandi... Ma per favore, a parte che il caso Cucchi non tiri fuori cose che non sa, che non hanno solo ammazzato di morte, certamente no. C'è ancora in corso il processo. C'è ancora... Ma non stia a parlare di cose... Lasci fare la sorola di Cucchi questa parte qua. Mi sembra che la sorola di Cucchi abbia preso una posizione ben precisa. Sì, sì, quando verrà fuori poi il processo vedremo c'è un'indagine e vediamo se hanno sbagliato o pagheranno. Quindi, comunque, insomma... Ma manchini. Una cosa scandalosa e inaccettabile però c'è un furgone con una targa penso che ci sia un reato di vilipendio. Qual è una divisa? Se io sindaco della Lega non appendo un quadro di Mattarella e non lo faccio nel mio ufficio c'è qualcuno che ha tentato di denunciarmi perché ho vilipendiato il Presidente della Repubblica. Nel mio comune non entra la foto del Presidente della Repubblica perché non sono obbligato a farlo. In questo caso però nessuno si è mosso. C'è un furgone c'è una targa pesantemente vanno colpiti questo. È inaccettabile. Seconda cosa spiace che molti di questi di Torino che da quanto mi risulta da fonti ufficiali erano presenti al raduno di Pontida del 22 organizzato vicino al nostro pratone non abbiano imparato niente da quella grande lezione di civiltà che i leghisti hanno fatto a tutta l'Italia. Quella è una lezione di civiltà. Quale sarebbe? Quella è una lezione di civiltà del popolo leghista che non ha accettato le provocazioni e ha permesso che ha voluto manifestare a Pontida di manifestare liberamente. Era tutto il paese chiuso. Lezio magistralis di civiltà era tutto blindato manco le farmacie pure il cemitero avete detto che più di civiltà c'era un po' di provocazione non è stata demolita Napoli ma per favore chi è venuto è stato accolto benissimo il nostro grande sindaco carotti avete ricevuto una lezione sconcettata dal fatto che il paese fosse completamente ridato vale più di 5 università quello che si è visto quel giorno che è potente torniamo al lavoro la ricetta di Forza Italia presto ci saranno le elezioni si torna a parlare dei temi che interessano le persone si torna a parlare salvo poi quando si viene eletti dimenticarseli però si torna a parlare dei temi veri per fortuna allora la ricetta di Forza Italia per quanto riguarda il lavoro ma guardi noi a grandi linee replicheremo più o meno quello che già abbiamo fatto perché quando gli altri chiacchiara noi i fatti concreti li abbiamo già fatti e già dimostrati quindi abbiamo aumentato le pensioni minime agli anziani se vi ricordate no è inutile che rida però scusi è partito no non può ridere perché è un dato è un dato Berlusconi nel 2001 contratto con gli italiani aveva promesso di creare un milione di nuovi posti di lavoro dove sono questo milione di nuovi posti di lavoro creati se fosse troppo piccolo devi ancora un po' studiare vai a guardare quello che sono stati dati in quegli anni e poi mi vieni a chiedere scusa tra le altre cose il milione di posti di lavoro assolutamente certificato dall'università di Siena Ateneo non proprio amico del centro-destra dove c'è scritto che quel contratto degli italiani è stato garantito per l'89% tra cui il milione di posti di lavoro quindi taci taci beh quello l'avete poi riproposto voi uno due quindi siccome noi le cose le abbiamo già fatte non ci riempiamo la bocca di aria e di parole replicheremo il modello che abbiamo utilizzato in passato quando abbiamo governato sicuramente per creare più posti di lavoro ora è indispensabile lavorare sulla fiscalità e quindi sulle tasse se non si abbassano le tasse le aziende non possono assumere nuove persone perché se si abbassano le tasse aumenta la produzione se aumenta la produzione aumentano le vendite se aumentano le vendite aumentano i posti di lavoro è un ciclo naturale fisiologico per cui se si lavora e lavora bene sull'abbassare le tasse i posti di lavoro aumentano è inutile parlare di crescita e di sviluppo se poi si pensa addirittura di aumentare l'IVA di che cosa stiamo parlando? Allora prima vediamo cosa fate voi e fino adesso avete sprecato 20 miliardi i posti di lavoro sono diminuiti di 7 mila dati ISAT di ieri non certo i miei della Ronzulli quindi francamente parliamo con dei dati alla mano voi di dati ancora oggi non ne avete concreti state sull'onda e la scia del chiacchierone Renzi e del suo fantoccio Gentiloni ma scusami parli di alleggerimento della fiscalità di diminuire quelli che sono i costi quello che è il costo del lavoro e sono perfettamente d'accordo allora sarai d'accordo sulle decontribuzioni che sono state fatte sugli sgravi fiscali che sono stati fatti e introdotti dal Jobsat quello lì eh sì guarda questo Jobsat è stato un fallimento anche lì ma cosa andate a citare delle cose che tutto il mondo ha certificato essere un fallimento quelle robe lì sono specchietti per le allodole che hanno permesso di cambiare semplicemente il contratto quindi chi lavorava in nero è stato assunto è stato introdotto una nuova fattispecie di contratto che è il contratto a tempo indeterminato sulle crescente ma cosa a tempo indeterminato allora anche lì questa è un'altra grande balla perché lo sai benissimo che cosa vuol dire che finiti gli sgravi allora li lasciano a casa non è vero perché tanti invece rimangono all'interno se io vengo assunta da un'azienda dove per tre anni sono sostanzialmente precaria e questa azienda alla fine dei tre anni mi può lasciare a casa io non vedo un contratto a tempo indeterminato se viene abolito l'articolo 18 che tutti a dire è una battaglia ideologica qual è il risultato che sono aumentati i licenziamenti disciplinari dovuti al fatto che non c'è più reintero quindi le aziende sono anche molto più incentivate ma guarda non mi risulta che i fannulloni stiano a casa mi sembra che i fannulloni a volte sono anche molto ben retribuiti e non stanno solo nelle fabbriche comunque i risultati di questo Jobs Act e di questo contratto a tutele crescenti è che le tutele non ci sono perché cosa sta crescendo se le tutele sono state tolte ma me lo vuoi spiegare quali tutele sono quali tutele avete aggiunto crescenti a me pare che sia una precarizzazione uno entra in un'azienda per tre anni è precario l'azienda dopo tre anni non ha più gli incentivi lo butta fuori questo è il risultato questo lo dici te nel senso ci sono tante aziende che hanno assunto e che manterranno stante anche la situazione economica mi sembra che i dati dimostrano esattamente il contrario una crescita seppur flebile dell'1% del PIL si è avuta adesso speriamo che sia negli anni a venire a partire già da questo 2017 una crescita più sostenuta quindi se le condizioni economiche lo permetteranno perché l'azienda dovrebbe andare a licenziare quelli che sono i dipendenti che ha assunto perché non ha più gli sgravi fiscali ma ha formato quella persona ha formato quel dipendente per tre anni ma tu lo sai cosa formano adesso ma cosa formano adesso ci ha anche investito tempo e denaro nel senso comunque sia per la formazione di questa persona per cui non vedo per quale motivo tra l'altro devo dire che ci sono appunto persone anche della mia età che sono uscite dal mondo dell'università e anche grazie al Jobs Act sono state assunte con appunto questo tipo di contratto sono tutti al McDonald non sto parlando di ragazzi che sono stati assunti al McDonald parlo per esempio di ingegneri o altre figure professionali che naturalmente sono maggiormente ricercate all'interno del mondo del lavoro e per cui già naturalmente a me sembra che se ne vanno in Italia magari sarebbero stati assunti a tempo determinato magari sarebbero stati assunti a tempo determinato e non a tempo determinato per gli ultra cinquantenni che è un vero e proprio dramma li lasciano i sindaci ma il problema rimane a noi quello vero? chiudono le fabbriche chi c'è dentro ciao come alla Keyflex no? è la stessa roba se minate ottimismo io sono naturalmente con i lavoratori funziona così in Italia mi sembra che gli imprenditori gli imprenditori il gruppo appunto di Spinelli abbia sbagliato non fosse altro che ha ricevuto anche non è l'unico caso comunque non è l'unico caso però è un caso come dire particolarmente eclatante ci sono i lavoratori che ormai sono sono in mobilitazione da mesi Ronzuli torniamo agli ultra cinquantenni sì mi faccia la domanda perché forse sono arrivata dopo siamo sempre alla ricetta alla ricetta gli ultra cinquantenni allora che rimangono a casa allora sicuramente questa è la fascia di età più debole indubbiamente perché è la fascia di età dove tendenzialmente gli imprenditori non investono preferiscono investire magari nei ragazzi più giovani e quindi quella quella fascia di età è una fascia di età che risente ecco in questo caso la ricetta è la la formazione e il rinserimento cioè la riprotezione quindi sicuramente bisogna puntare su corsi di aggiornamento e sulla riprotezione di queste persone in altri ambiti che sia la mobilità piuttosto che il cambio di mansione accompagnato evidentemente a corsi di formazione questo però costa quindi i soldi bisogna trovarli perché i corsi di formazione e le riprotezioni costano tantissimo quindi però rimangono in una fascia di età dove non possono andare in pensione quindi hanno ancora almeno tra i 15 e i 20 anni 12 anni di lavoro e in quei 12 anni prima di arrivare alla pensione devono vivere quindi l'azienda deve investire su una risorsa che non è più giovanissima che magari deve lavorare soltanto un tot di anni quindi per l'azienda può essere una perdita nel momento in cui poi arriva la pensione hanno un rinserimento da fare motivo per cui se si formano prima e si riproteggono prima per fare questo però bisogna assolutamente trovare dei centri di costo quindi insomma il segreto vostro è tornare alla vecchia ricetta quella che fu vincente ai tempi non avete più tante zavorre dentro la coalizione non avrete più insomma qualcuna ce l'avete però un po' meno speriamo dentro la coalizione di governo e riproporre quella formula quella sì esattamente perdonami quali erano le zavorre? beh c'erano dei dei micropartiti che imponevano tu andavi ancora all'asilo un po' di micropartiti e poi diciamo così nella nella legislatura 2008 2012 finita per noi con l'arrivo di Monti ci ricordiamo benissimo che la zavorra numero uno che ha impedito praticamente quasi tutte le riforme e che ha giocato controcorrente all'interno della stessa squadra portando alla distruzione se vogliamo di quella che fu quella coalizione di quel partito che era la grande federazione del centro-destra e del centro-destra dopo che si chiamava Gianfranco Fini che da presidente della Camera giocava contro il governo e che ha fatto mancare la maggioranza maggioranza storica nella storia della Repubblica che probabilmente non avremo mai più va bene dai andiamo a parlare di immigrazione subito dopo la pubblicità con il grande blitz in stazione centrale e anche la trovata di Salvini dormire come esattamente fa il governo mentre il governo dorme sull'immigrazione Salvini dorme al cara di Mineo dopo la pubblicità A presto a tutti a tutti Grazie a tutti.